Questa è un esemplare di destra, è uno strumento di destra, di destra, di destra, di destra, di destra, di destra. Ha convinto, convinto! E lui è un esemplare di destra, di destra, di destra, di destra, inchiodato, non si muove, è una gamba vitta, è sicuramente uno scherzo, è una burla, cioè sabbia per cura, non è vero che nulla a costruito al giorno, anche sul piedotto del costo, non è vero, non è vero, Non è nemmeno questo rapporto, se hai questo rapporto con la moto, devi stare a casa, devi prendere i pezzi, devi prendere il tagli, devi andare a la macchina, sento i piatti che piedi là, la rotola ti fa da corso, come si chiama il corso? Ti fa da torsilla, la rotola se la mettevo per torsilla, ti potresti anche da struzzare, non è possibile, è un esemplare, maschio italico, latino, piedi in sinistra, se non dovessi andare con moto bidet, e viva la vita, ce la tutte, questa a casa ce la sette, lo dico io, Mamma mia, è finta, gambe finta!